. E' che vieni che è moroide E' il cavo di coglioni a vedere il Sam è tutto E' tutto esterno e dei bimba babba Ma non ho ne tappato Non lo vedo altro Ma vieni a shock posto traumatico Ho ne tappato E' un shock l'altro Shock? E' una coltivazione della niente Oh, ho scarpiato tutto Beh, a parte che se te scarpiato Non è una coltivazione delle ame Non ho capito che sia una scarpia E' una coltivazione della niente E' una coltivazione delle ame No, perchè ora si Si è nato da sbagliare Si è nato da sbagliare la niente Io ho detto che i due sono un po' E' una coltivazione delle ame E' una coltivazione delle ame E' un coglione che fa' la coltivazione con il massimo Che cazzo Vergogna Vieni qua, vieni qua, fermo qua Vieni qua Marco, metti qua davanti Ah no, metti qua, vieni qua Marco, posso guardare la puntata volando come un deficiente No Poi dai, faccio dice ora No No Poi dai, che c***o Poi da cavarmi, aspetta Dai, ma che fei i ebiti E' avanti C'era una sola sega Oh dì E' 1.400 E' leggermente usurato No, no Ah, non è ancora Eh, mati, mati, mati Questa sai che te che è sul lato sinistro dei compratiometri? Ah, c'è un vero No, c'è lei a metà E' se toccato la terapia, vieni qua, vieni qua, allora Ah, aspetta, amara, perché... Ma, mamma, mamma... Ma se i fergus sono casi, sarà una bea divertimento Madonna, mati a sparare i spaccatini, porca p***a Eh, come, mamma... No, non giravo più a Ciave Cosa hai fatto? Adesso si muore un po' No, non giravo più a Ciave Eh, che tu adesso... che tu mi sono in blocco il boiante per il passo Non è capitato Non è capitato Non è capitato ogni tanto E ogni tanto succede, sgurli il boiante Si, è vero E ti giri un po' a Ciave Niente, il boiante, a parte che non era neanche in blocco il boiante Nooo Ora ho c'è pa' un p***a rogo, connetta' dentro la spesa di Ciave Visto che si andava un po' a Spunco E' un po' il polvereto, un po' di onto Pro... C'è 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 niente No, girano... Ho c'è pa' il barato e svito Oggi il calcante è passato O fra muo Ho scadato un minuto, intira' dentro Ciave E poi, ragazzi, cominciò a girare E' sempre meglio, sempre meglio, sempre meglio E dopo la tirava io su, e la guida va bene E' un barco da vecchio in futuro Comunque è meglio che... C'è un barco da vecchio in futuro Comunque è meglio che... Anche a mia nonna, anche sul gioco, mi dice... Anche a mia nonna, se c'è roba... Su l'abbi, su di youtube, mi fa un po' di patatino, se no... E... ... Non è davvero male Tu non dico questi hippie Eh, devi crescere ma... Eh, si, ma è tardi Metto in mezzo della pasta con... Dice... E ho fuori patate rossi Con mezzo poi altro E ho fu crostata perchè Tengo tutto ancora crostata E dopo... Finisci qua il togo e il pan Non vorrei tentare ne farlo la scelta E' giocato assolutamente meno Perchè se lo sa che è beccato la faccia E' possibile Vabbè Fidi, sonata ti sai che... Sonata sei la volta che tira fuori ogni nove Con foto scelta E' così che hai toccato E' il primo pensiero che ho fatto Con me l'ho posizionato Però davanti... Sonata ti sai che... Sonata ti sai che... Con me l'ho posizionato 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 Il nome delle aziende è... Ehm... Famiglia Porti Ehm... Non è l'azienda se... Tozy Meike Ehm... Meike Tozy Nooo... Meike Porti Ecco... Meike Pig Ah cos'è? Che cosa? Ma che devi scurricare con la bocca Lo zed... Lo zed... Inghilterra Che cosa fai dall'Inghilterra? Che cosa fai dall'Inghilterra? Uuuuuh... Uuuuh... Uuuuh... Wow... Ehm... Ehm... Esatto... Ciubicca De Bardi... Aroda... Gelsira... Cazzo... Il ponte... Marco... Io lo dico già come un mese di anticipo Forse il 26 settembre... Quando cazzo è il 26? Il 26 settembre Ehm... ma quando è? Penso il lunedì Ah... Ah... Aspetta... Ehm... Te fai ubriacarte in marzo Comunque mi hai guardato la lista delle robe da fare Che c'è una roba bruttissima Chiamata Apple Market Dai... O se vuoi di prigione No... Apple Market sarà il... Il negozio di e-mail Ma no... Arcoca... Cazzo... Cazzo... Dopo che c'è un posto bellissimo Chiamato Covent Garden Che c'è un nome familiare Si perchè l'anno scorso che ho fatto un attentato Ma se ti invece di andare in aereo Te vedi il motosapo Ma tu fai primario Sì... Motosapo Te fai... Te vedi il motorino Vio... Eh... Ti arrivi? Ti ho tutti i miei... Vedi il moto e io torno a casa Sì... Arrivo l'hazer Ora che... Ok... Ma... Tu adesso mi devi spiegare che cazzo Mi strana hai fatto Non lo sooo... No... Ho a cambiare tutto il messaggio Nooo... Miei geometri Ho un problema... Mille... Si da posto Quanti c'è? Ho di più... Diamo a parte... Beh... A parte che sei un troppo... Se vuoi miei geometri da... Nove... Ho vinto... E... Ah... Figa... Baena... E saranno mille... Due mille e tre Ecco... Ma che... Mille e si... Saranno mille e si... Vai Fernando! Tratta il trattore tuo quindi... Io... Che bello... Che bello sentire Marco... Vai... Tratta il trattore tuo... E comunque io ti dico no... Sono andati in autostrada... Con i miei amici che stavano andando... Non mi ricordi niente a P2... Forse vero... Una a Torbole... No... No... Sono andati a Torbole al mare... Dio... Ieri inverno prove... E... Evita autostrade... Evita pedaggi... Evita traghetti... No... Perché sennò... No... Che sei canale la manica... Dio... Eh... Cosa... No... No... Che era? Un cinquantino in autostrada... Cioè... Un cinquantino normale in autostrada... Stavo sparando... No... Qua... Perché... Sennò che io volevo fermare No... Se vende... Come se manco lunga strada... Veramente? Forza... Se... Il caesio campi... 1472... Si apoteccate l'uonto con 20 kg del pantano sola, pannozze, frutto e roba. Magari che l'occasione di vedere una giapponata 80. Io mi immagino mati con il tuo viaggio. Descai su capi quando a Londra. La cosa che vuoi fare a cena o se vieni parmi a mia? Tutto in piedi perché c'è tutto un saltone, tutto un pozzo, una scuolina e questo. A un certo punto... Eeeh, legionare tutto in mezzo al campo e per noi, tutto buttare a pisse per l'uomo, gambe distese e fuori per l'uomo. Hai cercato davanti a trinciarmi? No, ma ancora da andare in ciao, quindi. In ciao. E sta cambiando ancora 20 puntate, Fabio. No, era rosso scuro prima. E sta cambiando 20 puntate, Fabio. Eh figa, Fabio. Perché rosso scena comunisti. No, rosso scuro. Perché matti, siccome ha problemi con l'occhio che ha l'occhio balbo, ora lo vedeva coloro stronzo. E siccome vedendo quello stronzo veniva da cagare, e ora perché non significa rosso, non ha fatto nero. Ecco. Io so che piazza Marco perché ricorda i negroni. Adesso qui, come quando ti vedi, ti fai i pensieri strani. No, è Marco che... madonna. Cioè, no, no, ma stessa. No. E ha avuto fio sotto il culo fino da adesso, solo adesso ti accorgi che è vero. Sì. Io non neanche affatto caro, sicuramente. Vabbè, io... Ma credo che aveva una aperta camera davanti di oggi, finesse. No, finesse avevo alberi stazionati sempre. No, ma uno perde su quattro strade, i problemi. Vediamo le vulgarità. È vero, no. Vero. Perché è vero? È vero? È vero? No. Non ho capito. Non ho capito. Ma... Casi questa femmina? È grave, eh? Eh, che cazzo è questo vero? Mamma, cari, mamma, cari. Che gravissima questa cosa. Non sai cosa cosa è vero? No. È il maschio del maiale. Allora, alluglia, se la femmina del maschio è vero del maschio. È il vero del maschio. Io siamo maschio, appunto. Anche io. No, maschio se... come dire... È il porseo maschio. È il porseo, ma... È il porseo esemplare maschio, che ha... È l'organo maschio di maschio. Sì, beh, ho definito il partito. E con questo abbiamo concluso. Grazie dell'attenzione e arrivederci. Bella raga!